Ecco l'entrata in campo, sesta giornata di andata, Virtus Castelfrentano, Palombaro Calcio, per la categoria Juniors. Ok una foto veloce, andate a salutare la banchina e dopo una foto tutti quanti eh, ok si si, preparatevi per la foto su, ok, veloce veloce veloce, ok una foto, veloce veloce, eh si.